Brillante realtà imprenditoriale pugliese, che dal 1971 ha saputo distinguersi sul territorio divenendo azienda leader nei mercati energy e movement. L'azienda è sorta, come Agrisort, un'azienda per la commercializzazione di trattori cianni. Io sono entrato come socio, socio di 4 persone e poi nell'arco di 5 anni io man mano ho rilevato le ponte, ma tutti i soldi e nel momento in cui sono rimasto da solo è entrata mia moglie. Così, dopo un decennio di attività, l'azienda ha acquisito la sua attuale denominazione. Fu deciso di denominarla AS, che non è altro, non è l'acronimo di Agrisort. AS, ubicata in Monopoli, fiorente cittadina del sud barese, si sviluppa attualmente su una superficie di circa 8.000 metri quadri. Oggi non è più la piccola azienda di IEMO, non è la grossa azienda, però è un'azienda media basata su solidi principi e anche su una solidità finanziaria adeguata. L'AS opera nel settore dei motori diesel e gruppi elettrogeni e nel settore delle grue e piattaforme aeree. Sono due settori ben distinti, perché come filosofia aziendale abbiamo voluto privilegiare la diversificazione dei prodotti e questo ci consente di ottimizzare la nostra struttura e le nostre strategie di mercato. Per offrire prodotti di alta qualità, AS ha intrapreso collaborazioni con case produttrici molto prestigiose, acquisendo ruoli di official dealer e diventando per alcuni importanti marchi anche concessionaria esclusivista di zona. Selezionando territori sempre più ampi, AS ha conquistato progressivamente mercati significativi. L'azienda è partita soprattutto per un mercato locale, ma negli anni ha avuto uno sviluppo notevole, passando a mercati regionali, nazionali e adesso operiamo da alcuni anni anche su mercati internazionali, privilegiando l'area balcanica e l'area nordafricana. Il cliente AS acquista un prodotto con valore aggiunto, riceve consulenza preventiva e assistenza post vendita, con offerta di una vasta gamma di ricambi originali e accessoristica di supporto. Il nostro valore aggiunto è diventare partner del cliente, non semplici fornitori. Noi insieme al cliente studiamo la scelta stessa del prodotto in base alle sue esigenze. La progettiamo insieme. La realizziamo. E dopo la vendita siamo a fianco al cliente nella manutenzione e nella gestione delle attrezzature. AS attribuisce notevole importanza all'innovazione tecnologica, nel pieno rispetto dell'ambiente e delle norme di sicurezza nazionali ed internazionali in vigore, garantendo maggiore produttività, risparmio energetico, qualità funzionale. Nasce così il brand Powered by AS, per prodotti realizzati su propria progettazione. Per la realizzazione e la manutenzione dei prodotti commercializzati, AS si avvale dell'attività dell'azienda AS Service, costituita nel 1987 e specializzatasi negli anni in allestimenti, assemblaggi, installazioni, riparazioni, manutenzioni, revisioni e collaudi. Negli anni abbiamo predisposto una rite capillare sul territorio, sia per la distribuzione che per l'assistenza, in modo da essere sempre vicini al cliente. L'azienda ha ottenuto fin dal 1994 la certificazione del sistema gestione e qualità secondo le norme Unien ISO 9001 e lo adotta rinnovandolo ogni anno. AS ha vissuto diversi contesti socio-economici, ma li ha affrontati sempre con l'obiettivo di un progressivo miglioramento. Attraverso il confronto costante tra il monitoraggio dei mercati sempre più dinamici e il controllo dei parametri gestionali, AS rimodula continuamente scelte e strategie per essere più competitiva e per cercare di anticipare gli andamenti esterni. AS è suddivisa in aree funzionali, che interagiscono per la realizzazione di una gestione efficiente. Nella volontà di realizzare i suoi piani di sviluppo e di crescita, AS ha puntato molto alla valorizzazione delle risorse umane e all'affermazione quindi di un team di persone che sappiano prima individualmente, poi nella sinergia collaborativa, innalzare l'azienda verso forme di eccellenza. Grazie a tutti! L'organizzazione ha vissuto un'evoluzione con lo sviluppo dell'azienda. Sono nell'AS dal 1990, sono passati quasi 22 anni. Praticamente quando sono arrivato in AS eravamo 5 persone. Avevamo a che fare soprattutto con gli agricoltori perché venivamo dalla vendita di trattori. L'ampliamento ha determinato numerosi cambiamenti generando un percorso di crescita nelle persone coinvolte. Comincio a lavorare nel gennaio del 1988. In questi 24 anni di cui ho vissuto qui in questa azienda abbiamo fatto dei grossissimi passi avanti. nella prima parte per i tre quarti abbiamo vissuto a fianco a fianco con il titolare, con il signor dito Labruna e che oggi dopo tanti anni posso dire un amico che ha avuto tanto da insegnarmi. Fermi e costanti sono stati e continuano ad essere i valori trasmessi in AS. Ci abbiamo sempre tenuto in modo particolare all'immagine aziendale e abbiamo dato un'impronta da sempre legata proprio alla correttezza nei confronti di chi si interfaccia con noi. Vere e proprie linee guida con cui operare evocando fiducia. Cooperazione, voglia di fare. Avere una sicurezza, una garanzia alle spalle è fondamentale perché avere un'azienda solida che ti dà supporto tecnico, commerciale, che rappresenta dei marchi leader a livello nazionale è una cosa importantissima. Un'intensa collaborazione e un confronto continuo sono la base dell'operatività aziendale e consolidano un'unione confermata sia in momenti favorevoli quanto in quelli avversi. Proprio due eventi particolarmente negativi hanno segnato la storia di AS, l'alluvione del 2004 e quella più recente del 2011. Una forza che pur nello sconforto profondo e intenso ha comunque lasciato spazio al desiderio e alla volontà comune di ricostruire per andare avanti. Anche in queste due occasioni, che sono state drammatiche, la vecchia alluvione e la nuova alluvione, grazie a questa tempestività, a questo lavorare insieme, a questo prestarsi da parte di tutti, noi abbiamo superato la prima, stiamo con l'acqua alla cuore ma stiamo superando la seconda. Ecco, questa è la nostra forza. Nata per volontà di due persone, cresciuta con passione, intraprendenza, determinazione e coraggio, AS guarda futuro nell'orizzonte comune e contro ogni avversità, con l'entusiasmo di credere e la voglia di creare, sfidando i contesti e gli eventi con l'obiettivo di essere vincenti. Sous-titrage Société Radio-Canada